Riccardo Illi, numero uno della nota marca di caffè, è stato l'ospite più illustre del secondo appuntamento della rassegna I Dialoghi sull'Innovazione, serie di appuntamenti che apre il percorso che porterà al Festival dell'Innovazione. Ricerca, sviluppo e innovazione sono tre delle parole chiave per il futuro dell'Alto Adige, temi considerati prioritari per i prossimi anni dalla Giunta Provinciale. Stiamo investendo molto sull'innovazione perché sappiamo che da come noi e da quanto noi sapremo innovare dipenderà la qualità della vita e la qualità della nostra terra per le prossime generazioni. L'innovazione è la strada giusta per garantire ai nostri giovani un futuro che sia almeno all'altezza di quello che stiamo vivendo in questo momento. Durante l'incontro nella sala del cortile interno di Palazzo Widman gremita di pubblico, Riccardo Illi ha raccontato la storia della sua azienda fortemente legata alla ricerca e alla qualità. Ha sottolineato l'importanza dell'innovazione. Innanzitutto essere consapevole che innovare è non necessario ma indispensabile oggi e questo mi pare sia già venuto. E poi deve trovare dei campi nei quali può veramente eccellere, cioè innovare meglio di chiunque altro possibilmente. E sono convinto che anche questo sia possibile partendo da un vantaggio competitivo importante che è il fatto di avere più culture, più lingue parlate su questo territorio, ciò che rende la creatività più facile. I dialoghi sull'innovazione rappresentano il primo passo di una strategia più ampia sul sistema locale. L'obiettivo è quello di creare le condizioni affinché l'Alto Adige possa accettare la sfida della modernizzazione attraverso la ricerca e l'innovazione. Le piccole e medie imprese altoatesine devono avere gli strumenti necessari. Il primo consiglio è di essere curiosi, di andare in altri paesi, di visitare la clientela, di visitare le fiere, e di capire quali possono essere le necessità dei clienti attuali o di quelli potenziali ancora non soddisfatte da altri. E lì attraverso l'innovazione è possibile raggiungere risultati straordinari. E poi di affidarsi a istituzioni che spesso la piccola e microimpresa vede lontane, come le università, come i parchi scientifici e tecnologici di cui uno sta nascendo anche qui a Bolzano. Il futuro parco tecnologico di Bolzano, secondo Riccardo Illi, è un passo necessario per garantire competitività a livello nazionale ed internazionale. Conosco diversi paesi al mondo che sono leader nell'innovazione a partire dagli Stati Uniti e onestamente non ho mai visto altri modelli che abbiano funzionato. In certi casi le università hanno fatto da sole, ma sono tutto sommato eccezioni e in genere sono state le stesse università che hanno gemmato imprese, quindi professori che sono diventati imprenditori e imprese che poi sono cresciute. Il parco scientifico tecnologico è l'intermediario che rende tutto più facile. All'incontro ha partecipato anche Ulrich Wallneufer, cofondatore di Pure Suttirol, e Bettina Schmidt, manager del cluster alimentare presso il TIS. Prossimo appuntamento con i dialoghi sull'innovazione, mercoledì 26 ottobre a Merano con l'arte di innovare. Tutte le informazioni sono comunque a disposizione su internet all'indirizzo www.innovation-now.it